Signore Gesù, dona alla Chiesa di manifestare il tuo amore nell'accoglienza, nella carità, nella missione, attraverso il ministero del Paolo, i Mescovi e i Sacerdoti. Custodisci con la loro forza e perseveranza. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù, grazie a tutti. Signore, benedisci e santifica i tuoi Sacerdoti, perché possano guidare il popolo che tu gli hai abitato. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù, grazie a tutti. Vogliamo ringraziarti, Signore, per l'immenso bene che abbiamo ricevuto attraverso il servizio sacerdotale del nostro amato Bufranco. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù, grazie a tutti. Signore, grazie a tutti. Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità. Sostienta in questo momento di dolore. Rafforza la nostra fede. Per questo ti preghiamo. Signore, grazie a tutti.